Amici sportivi un saluto da Fabrizio Agostini e Matteo Arena tredicesima giornata del campionato di Serie C2, girone C in campo United Aprilia e History Roma 3Z sfida importante tra la terza e la quarta in classificanti pallone dentro palla in rete, Bernoni sblocca 1-0 United poi dentro Medici occasionissima la parata eccezionale di Masullo raddoppiato poi Medici manda dentro, Breck, Bernoni prova ad andare via, Bernoni Bernoni 2-0 United fiondata di Bernoni Pignatiello per Galieti colpo di tacco Pignatiello dentro e palla nel sacco 3-0 United Ancora di dov'è ancora lui brava la respinta di Masullo poi Medici mette dentro Medici 3-1 accorcia le distanze l'Histori Roma 3Z Galieti poi arriva ancora Bernoni Ciampanelli Ciampanelli palla che non arriva nel sacco salvataggio sulla linea palla sull'altro versante con Didonè palla per Carlettino grande gesto tecnico di Carlettino Medici Carlettino ancora Carlettino poi Didonè si ritrova la sfera tra le braccia Masullo si gira Gravano poi però si allunga la sfera e allora Medici prova a far fuori Ciampanelli poi grande azione palo di Medici pallone dentro De Marco deviazione sottomisura prova ancora Medici nel cuore dell'aria poi lascia Scuderi arriva Scuderi palla alta Gravano dentro per Cianfanelli fermato regolarmente Cianfanelli poi Didonè Didonè il palo ancora secondo palo parte Didonè pallone per Galante la respinta sul tiro da parte di di Masullo poi arriva però la rete di Scuderi Galante Galante va via a destra poi mette in mezzo Scuderi che occasione history in grande pressione United in grande difficoltà e allora ancora Masullo su Medici poi prova a spazzare via poi batti e ribatti alla fine Didonè mette dentro Carlettino per Medici arriva il pari di Medici arriva il pari di Medici l'ultimo tocco di Cianfanelli davvero poi Medici salvataggio di Cianfanelli si chiude si chiude la difesa dello United e riparte con Pignatiello Pignatiello la parata eccezionale da parte di Biasini poi il break da parte di Didonè va via Didonè il festro vincente di Didonè sorpasso completato da parte degli story Roma Cianfanelli ancora per De Marco De Marco palla in rete subito il pari di De Marco all'ultimo secondo il pareggio di De Marco che fissa così il punteggio quattro pari tra United d'Aprilia History Roma 3Z termina in parità questa sfida importante del girone della serie C2 da Fabrizio Agostini e da Matteo Arena un cordiale saluto a tutti voi